Un incidente stradale si è verificato ieri ad Eboli, in prossimità del centro commerciale Le Bolle. Un ragazzo diciottenne indiano che era in sella ad una bicicletta è stato investito da un furgone ed è rimasto gravemente ferito. Il giovane è stato soccorso e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Eboli ed è in gravi condizioni di salute. Ieri i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, hanno effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. I carabinieri hanno sequestrato il furgone, un Mercedes e la bicicletta. Il ragazzo che percorreva la strada con la bicicletta si stava recando al centro commerciale e avrebbe svoltato all'improvviso, effettuando una manovra azzerdata e l'impatto con il furgone è stato inevitabile. Il paziente è stato trasferito all'ospedale di Eboli a serene spiegate. In un primo momento le sue condizioni di salute non destavano grosse preoccupazioni. I primi soccorritori hanno descritto una situazione abbastanza serena. Poi il quadro è cambiato. Le condizioni di salute dell'indiano sono peggiorate. Al pronto soccorso il paziente ha ricevuto le prime cure. In sala raggi la diagnosi drammatica. Ferite multiple agli arti e soprattutto lesioni polmonari.